La prima cosa in assoluto, così, tranquillizziamo gli amici della sinistra PD. Nessuno di noi ha intenzione, voglia, desiderio di iscriversi al PD. Per quanto mi riguarda personalmente io vengo dalla Toscana e quindi l'avessi voluto fare e l'avrei fatto da ragazzo. Il PD ha una sua storia piena di luci, piena di ombre ed è un problema interno. Utilizzare la coperta corta, con il vostro contributo ovviamente, con il vostro grande contributo, utilizzare la coperta corta per coprirsi o copri i piedi o copri la faccia. Tutte e due le cose le puoi coprire. È un loro problema interno e su questo hanno giocato per settimane, con il nostro silenzio, perché nessuno di noi ha mai avuto quell'intenzione, non ce l'ha e non ce l'avrà e quindi stiano tranquilli.